Sì, ho fatto una cavolata assurda, più grande di me. Avevo bevuto troppo. Per quelle foto mi hanno giudicata, massacrata. Mi sono sentita sporca, sola. Pensavo che nessuno mi potesse più aiutare, che nessuno potesse capire. Ma poi ho avuto la forza di parlare. Questo libro è scritto con le testimonianze di chi è stato vittima di cyberbullismo. Sono le storie che raccontiamo nel tour di Cuori Connessi che da anni, insieme alla Polizia di Stato, portiamo nelle scuole. Per dire no a ogni forma di cyberbullismo. In omaggio nei negozi Unieuro. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.